Il presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Silvano Pagliuca, insieme al vicepresidente Lorenzo Dattoli, ha organizzato un incontro con l'onorevole Fausta Bergamotto, sottosegretaria di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'incontro si è tenuto presso la sede di Teramo dell'Associazione e ha visto la partecipazione di una vasta delegazione di imprenditori provenienti dalle tre province rappresentate da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. In particolare l'attenzione si è concentrata sulle iniziative di supporto alle aziende del territorio, con un focus specifico sul settore automotive e sulla transizione verso l'industria 5.0. L'automotive però, dobbiamo ammetterlo, è un settore particolarmente in crisi, per due ordini di motivi. Il primo è perché in Italia abbiamo un solo produttore di automobili che è Stellantis, e quindi Stellantis ha fatto una scelta, una scelta che va verso l'elettrico, esattamente nella medesima direzione del Green Deal europeo. Il secondo ordine di problema, ma anche il primo, è esattamente la tempistica dettata dal Green Deal. Condividiamo gli obiettivi, vogliamo raggiungerli, contestiamo la tempistica e contestiamo anche il metodo. Pertanto riteniamo, come governo, in questo ci siamo fatti parte attiva, di dover anticipare la revisione della clausola prevista dal regolamento, quindi dal 2026 a inizio 2025, e riteniamo che questo sia necessario per non mettere ulteriormente in ginocchio il settore. Durante la riunione sono stati discussi i temi fondamentali per il futuro delle imprese locali e del comparto industriale della regione. È un'occasione per dire che c'è un insegnamento importante di una nostra società che va sotto il nome di Aera, e che ha deciso di aprire proprio qui, a pochi chilometri da terra, Mosciano, una nuova produzione di macchine sportive made in Italy, con settori adiecenti, e quindi avendo trovato proprio una filiera importante di competenze, che sarà quindi una produzione interamente italiana del motore elettrico. Per noi è molto importante questa scelta, anche perché è un investimento che si aggira intorno al miliardo e duecenti milioni, quindi molto molto importante proprio per ridare vitalità a questo settore che sta attraversando un momento di crisi dovuto alla transizione verso l'elettrico.